Matteo Cressoni un servizio ai miei gentlemen, ai clienti appassionati, una cosa molto in auge di moda adesso e l'anno scorso è partita questa idea a maggio, poi durante i mesi abbiamo cercato di realizzarla e siamo arrivati a produrre due tipologie di simulatori, uno statico e uno dinamico, uno un po' più ludico, l'altro molto più nell'evoluzione e nel miglioramento della tecnica di guida in pista. Quindi un aspetto professionale anche per i piloti che sempre più amano simulare le condizioni di corsa seduti in una stanza dentro quattro mura. Sì, direi assolutamente sì perché è sempre più difficile andare in pista, organizzarsi a livello di costi e quant'altro, soprattutto i non professionisti, magari i gentlemen hanno anche poco tempo e con questi strumenti riescono a migliorare, ad affinare le proprie capacità senza appunto muoversi da casa. In che misura un simulatore riproduce le condizioni della pista dal punto di vista di un pilota e come fa un pilota ad inventarsi costruttore di questi dispositivi? Non basta la passione, ovviamente servono anche conoscenze, serve un'ingegnerizzazione e naturalmente le persone che mettono in pratica tutto questo. Sì, diciamo che la parte facile che so, o meglio credo insomma di sapere cos'è la realtà e cosa serve ad un simulatore per essere il più realistico possibile. Poi chiaramente mi sono affiancato di gente esperta, ingegneri, collaboratori che riuscissero a realizzare un po' quello che volevo e ad oggi questi strumenti permettono di conoscere le piste in modo realistico al 110%, tanto sulle regolazioni, le tecniche delle auto e di dare quelle sensazioni, riprodurre quelle sensazioni che in caso di errore in pista si pagherebbero care, mentre qui si può sempre rimediare. In questa stanza nella tua azienda abbiamo l'unico esemplare mi risulta di simulatore dinamico, mentre per quello che riguarda gli statici siete un pochino più avanti. Il futuro che cosa riserva per quanto ti riguarda? Per ora stiamo ancora sviluppando perché come sempre mi piace migliorare, non siamo ancora arrivati secondo me a quello che voglio esattamente con il dinamico che è un po' il settore dove sto spingendo di più per quello che riguarda la mia tipologia di clientela. Con quello statico invece siamo direi ad oggi a un ottimo livello e stiamo già avendo un discreto successo. C'è solo da spingere il pedale dell'acceleratore e dare gas? Assolutamente sì. C'è solo da spingere il pedale dell'acceleratore.